Una nuova puntata di Cronache e Commenti, il nostro focus dedicato all'attività del Consiglio regionale in apertura ai titoli degli argomenti che tratteremo all'interno di questa puntata. Toscana Promozione Turistica, via libera al bilancio preventivo 2022. Fondazione Sistema Toscana, Disco Verde al bilancio di esercizio 2020. Carceri, al via da Sollicciano il percorso della Commissione Affari Istituzionali e del Garante Toscano dei Detenuti. Il capitolo dedicato alle fondazioni è stato centrale nell'ultima seduta del Consiglio regionale. Via libera al bilancio preventivo di Toscana Promozione Turistica, con 20 voti favorevoli e 14 contrari. L'agenzia svolge attività di promozione turistica attraverso l'organizzazione diretta di iniziative e la partecipazione a progetti di promozione anche di altri soggetti pubblici, sia a livello nazionale che internazionale. L'atto è stato illustrato dal consigliere del Partito Democratico Mario Puppa. Il Consiglio ha approvato il parere sul bilancio di previsione di Toscana Promozione Turistica, che è un'agenzia di fondamentale importanza, soprattutto in questo momento di ripartenza. Perché veniamo da due anni di Covid che hanno messo in ginocchio il nostro sistema turistico. È un bilancio che logicamente è ancora di transizione, che porta 10 milioni in dote, appunto per trovare stimoli e progetti per il rilancio di un settore che è fondamentale per tutti noi. Parere positivo è stato espresso da parte del Consiglio anche in merito alla proposta di delibera per il bilancio preventivo 2022 dell'Agenzia Regionale per l'Impiego. Arti è l'Agenzia Regionale per l'Impiego, è un'agenzia che si sta allargando e si sta potenziando, soprattutto grazie alla rete diffusa di centri per l'impiego, che sono la parte operativa dell'Agenzia. In un momento anche questo delicato, perché c'è bisogno di ripartire, lo facciamo attraverso un bilancio importante che quota oltre 67 milioni di euro e che serviranno attraverso il potenziamento di servizi per le imprese e per i cittadini a rilanciare la nostra Toscana. Il dibattito a Palazzo del Pegaso si è poi incentrato sulla Fondazione Sistema Toscana. Con 20 voti favorevoli e 16 contrari, il Consiglio ha approvato il bilancio di esercizio 2020, che registra un utile di 199.754 euro, confermando sostanzialmente il risultato dell'esercizio precedente. L'atto è stato illustrato dalla Presidente della Commissione Cultura. Cristina Giacchi. Un'approvazione un po' tormentata, molto contestata. In realtà l'unica pecca che ha è di essere un'approvazione tardiva, perché era il bilancio del 2020 che ha avuto alcune vicende che hanno richiesto approfondimenti, ma ad oggi il bilancio è la prima cosa, un bilancio inutile della Fondazione, che quindi è un saldo positivo. È un bilancio che ha ricevuto alla fine tutte le approvazioni degli enti di controllo, gli organismi di controllo interni ed esterni. È un bilancio che ha consentito di verificare per l'ennesima volta come questa fondazione sia un organismo indispensabile per le attività dell'ente regione toscana sui fronti della promozione turistica nelle sue connessioni con la promozione e il sostegno all'offerta culturale. Si occupa di quel settore di cerniera che consente di trasformare la nostra identità culturale e il nostro patrimonio culturale in motori, generatori di offerta turistica e quindi di economie anche nel campo turistico oltre che nel campo della cultura. È stata anche l'occasione per analizzare temi più generali che riguardano il rapporto con i dipendenti e gli ex dipendenti e gli incarichi ad essi riconoscibili che però ha avuto come esito quello di essere ricondotta nell'alvio della prima commissione per una discussione più generale e quindi il bilancio è stato approvato con soddisfazione a maggioranza e ci porta adesso ad attendere i bilanci di preventivi per le attività del 2022 della Fondazione Sistema Toscana. Il nostro voto è stato negativo, infatti è emblematico che oggi marzo 2022 si voti l'approvazione del bilancio di Fondazione Sistema Toscana del 2020. Ci sono state varie problematiche, infatti già a settembre sono state chieste integrazioni e modifiche che poi sono arrivate a gennaio, diciamo che è stato detto che le cose andavano bene. Abbiamo votato in commissione qualche giorno fa, è passato a maggioranza, noi diciamo cosa c'è che non va in Fondazione Sistema Toscana? Qualcosa c'è che non funziona. Lo dicevamo anche negli altri anni, va avanti con il 90% di soldi regionali, quindi è giunto il momento di fare una riflessione su questa fondazione e anche su Toscana Promozione, perché per certi versi si assomigliano e quindi secondo noi forse ci vorrebbe un'unica regia. Nel marzo del 2022 ci siamo ritrovati a votare il bilancio 2020 della Fondazione Sistema Toscana, che è una fondazione partecipata all'83% dalla regione toscana, quindi una fondazione quasi esclusiva proprietà della regione e questo ci ha un po' insospettiti. Siamo andati a spulciare, a controllare come mai il bilancio dal 2020 arrivi oggi e ci siamo accorti che quel bilancio intanto ha due pareri negativi ricevuti dalla direzione bilancio della regione. Non solo, guardando i bilanci, ci siamo accorti per esempio che nel 2017, nonostante la regione abbia stanziato 5 milioni e 200 mila euro di denaro pubblico a Fondazione Sistema Toscana, ne sono serviti un ulteriore 620 mila per colmare un buco di bilancio. La Fondazione Sistema Toscana è la fondazione che deve promuovere la cultura, il turismo e l'integrazione in Toscana, quindi un qualcosa di surreale, cioè che la fondazione deve promuovere la cultura e il turismo, del luogo che forse ha più cultura e storia, tradizione e attrazione turistica del mondo, perda 600 mila euro all'anno. Io mi auspicavo quantomeno di fronte a questa gestione, a questa mala gestione che il direttore generale della fondazione fosse stato rimosso e ci siamo accorti del vero problema, della vera anomalia. Cioè Fondazione Sistema Toscana ha avuto per 17 anni lo stesso direttore generale, un signore che ha percepito 115 mila euro di stipendio all'anno per fare male il proprio lavoro e dopo 17 anni ha finito di fare il direttore generale della fondazione solamente perché è andato in pensione e un minuto dopo che è andato in pensione il Consiglio regionale lo ha nominato nella deputazione di Monte Paschi di Siena, cioè gli ha dato un'altra nomina. Già questo basterebbe secondo me a far attenzionare questa situazione, non è tutto, c'è di più, evidentemente lo stipendio che si prende in deputazione del Monte Paschi di Siena e la pensione che ora questo signore percepisce sono ben lontani dai 115 mila euro che percepiva quando era direttore di Fondazione Sistema Toscana e allora Fondazione Sistema Toscana in affidamento diretto gli dà una consulenza da 50 mila euro. Un bonus, perché evidentemente è stato bravo a gestire male 17 anni la fondazione e viene dato un bonus, è largito un premio in questa situazione storica, in questa contingenza storica un premio di 50 mila euro, è una roba vergognosa. Più che le polemiche sui tempi il mio è stato un intervento proprio nel merito dei numeri perché qui ci sono poste che non tornano, sono interventi tecnici miei, ho cercato di spiegare all'aula che il credito IVA non può essere portato a fondo rischi perché è una partita di giro il cui debitore è lo Stato quindi più garantito di così non può essere un credito e quindi se viene portato a un fondo rischi vuol dire che c'è un problema e leggendo il bilancio mi sono accorta che l'agenzia delle entrate già nel 2017 ha dichiarato questo credito IVA inesistente quindi è stato fatto un errore ed è specificato proprio nella relazione a pagina 74, chi vuole andare a vederlo lo può vedere, che è stata considerata detraibile l'IVA su spese di missione, le spese di missione sono spese di viaggio, ristoranti e hotel, esiste una legge dello Stato che dice che l'IVA su queste spese è indetraibile, ora mi domando come una fondazione possa fare un errore simile, questo è stato appurato nel 2017, tutt'oggi questo credito IVA è in bilancio quindi vorrei capire quando verrà portato a perdita e verrà sicuramente sistemato il bilancio, ma non solo, questa fondazione è una duplicazione di un altro organismo come Toscana Promozione e Sviluppo, hanno praticamente le stesse finalità, si discostano leggermente però le risorse che impiegano sono ingenti, si parla di 10 milioni di euro l'una e 9 milioni di euro l'altra, fondazione sviluppo Toscana è finanziata per l'87% dalla regione toscana, quindi sono soldi pubblici che in questo momento di crisi potrebbero essere dirottati su aiuti a favore delle famiglie che non riescono ad arrivare in fondo al mese, alle imprese che si trovano di fronte ai maggiori costi per l'energia elettrica, quindi non capisco come mai non si arrivi a una razionalizzazione delle risorse e anzi si usino queste fondazioni un po' come dei meccanismi per creare lavoro. Elisa Tozzi, consigliera del gruppo misto Toscana Domani, commenta in maniera critica la situazione di entrambe le fondazioni. Ma sicuramente su questo fronte siamo estremamente critici, siamo estremamente critici sia da un punto di vista di reale opportunità e anche di efficacia di tenere insieme alcune situazioni, ci riferiamo in particolare a Toscana Promozione ma potremmo anche parlare di arti. Diciamo che nel dibattito consigliare e soprattutto in quelle che sono un po' le finalità di queste agenzie noi non troviamo risposte effettive rispetto alla missione per cui sono state istituite. Particolari criticità poi riguardano Fondazione Sistema Toscana, in realtà ci stiamo tutti quanti interrogando su quelle che sono le prospettive e soprattutto le capacità di governance di queste situazioni. Lo abbiamo detto anche ieri nella scorsa seduta, da un lato si interviene a voler cumulare anche compense e le cariche, dall'altro però non si vuole assolutamente affrontare la questione delle criticità gestionali. Se le società partecipate continuano ad essere gestite nella sola ottica di occupazione di posti e di moltiplicazione di poltrone, questa è una logica che noi non possiamo accettare. C'è un grande lavoro da fare, che è quello di prendere sul serio un piano di razionalizzazione, che è quello di evitare di continuare a propinare annunci dove si moltiplicano le società partecipate che sembrano quasi la panacea della risoluzione dei problemi della Toscana, quando in realtà ciò che emerge oggi è che nessuno pare essersi occupato, quantomeno negli ultimi dieci anni, della reale funzione di questo tipo di strumenti e di quanto si possa realmente incidere sulle politiche che intendono perseguire invece di essere solo delle macchine che continuano a mangiare soldi pubblici. Su questo naturalmente c'è un grande lavoro da fare che come opposizione non ci sottraremo certo a portare avanti. Ha avuto inizio da sollicciano il percorso della Commissione Affari Istituzionali del Consiglio Regionale e del Garante Toscano dei Detenuti per toccare con mano l'universo delle carceri in Toscana, una serie di sopralluoghi e incontri con detenuti e personale. L'obiettivo è quello di capire il reale stato degli istituti penitenziari e l'obiettivo è anche quello di arrivare ad elaborare e a portare all'attenzione di tutto il Consiglio regionale una proposta di risoluzione che consenta alla regione toscana di fare la propria parte e di poter contribuire al miglioramento della realtà detentiva di tutto il territorio regionale. La visita è stata particolarmente istruttiva soprattutto nella parte in cui tutti i detenuti che abbiamo ascoltato hanno insistito sul desiderio di avere una formazione in uscita dal carcere per poter trovare un lavoro e per poter reinserirsi decorosamente all'interno della società. È stata una visita impegnativa che mi ha fatto molto riflettere, innanzitutto sapere come anche questa notte vi sia stata un'aggressione qui dentro. Quindi il tema della vigilanza e del personale che opera all'interno del carcere di Solicciano e poi venire a sapere che praticamente da quando il carcere è stato costruito soltanto negli ultimi anni, dal 2020 in poi, si è cominciato a fare qualche lavoro strutturale. Rendiamoci conto in che situazione è versa il carcere di Solicciano. Abbiamo visto delle infiltrazioni d'acqua piovana cadere, le tracce addirittura sopra degli impianti elettrici. Il mondo carcerario deve essere visto veramente a 360 gradi, deve essere visto tutto il mondo carcerario, i detenuti ma anche le guardie carcerarie. Ed è tutto, questa era la nostra ultima intervista. Cronache Commenti torna la prossima settimana. Cronache Commenti torna la prossima settimana.